Bufera sul colosso tedesco automobilistico Volkswagen dopo che è uscita la notizia che avrebbe violato la legge anti-smog negli Stati Uniti. Ha perso quasi 18 miliardi di euro in borsa. La vicenda deve essere chiarita al più presto, ha detto il vice cancelliere tedesco e ministro dell'economia Gabriel. Tutto il governo chiede che la casa automobilistica collabori con le autorità americane. La stessa sarebbe al centro di una indagine penale. Ha chiesto scusa di ciò l'amministratore delegato della Volkswagen.